Buongiorno, grazie per essere intervenuti, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino presenterà e introdurrà il nuovo acquisto del Lecce Fabio Pisacane e poi a seguire ci sarà lo spazio per le domande dei giornalisti collegati. Buongiorno a tutti voi in ascolto, un altro giorno insieme, un altro giorno a presentare un altro calciatore e oggi nell'arrivare allo stadio e presentarmi a voi per presentare Fabio Pisacane, ho pensato che non seguire quelli che sono i canoni di una presentazione andando a trovare, a sbucciare determinate considerazioni ma andare brevemente a braccio perché quando si presentano certi calciatori che arrivano in un club nuovi a volte non c'è bisogno di andare troppo per le lunghe e come non sono stato per le lunghe quando ho presentato un altro difensore, un altro difensore, marcatore perché diciamo che ogni calciatore si identifica in un ruolo e per caratteristiche e quindi oggi Fabio Pisacane viene presentato come un difensore duttile, capace di essere un difensore capace di essere utilizzato in tutti i reparti, in tutto il reparto difensivo. Per cui come lo fu per l'altro difensore, marcatore, che è arrivato quest'anno a completare il reparto dei quattro più giovani monterisi, dopo Lucioni e Meccariello, è arrivato Dermago. Arrivò Dermago e per me fu facile anche in quell'occasione presentare un marcatore che arrivava da circa 30 partite nel Parma in Serie A lo scorso anno ed era partito quest'anno titolare nel Parma sempre in Serie A. La stessa cosa mi riesce questa volta più facile proprio perché il quarto marcatore più monterisi è ancora un calciatore che viene dalla Serie A, un calciatore che ha totalizzato fino all'altro giorno più di 100 partite in Serie A e non solo questi numeri ma ne ha disputate 30 da titolare lo scorso anno. Devo dire che si vanno anche ad aggiungere a più di 100 disputate nella cadetteria nel campionato di Serie B. Quindi questo è Fabio Pisacane che io smetto di aggiungere altro perché non ha bisogno di aggiungere qualcosa in più. Perché credo di aver detto tutto e come ho detto volevo andare a braccio sentendo quello che mi sentivo in questo momento, l'ho fatto e ve lo lascio a voi per le domande di rito che per oggi vi dovete accontentare solo di lui perché io credo che dopo aver parlato ieri non ho altro da aggiungere. Grazie, un caro saluto ancora. Grazie direttore. E allora adesso lo spazio per le domande per Fabio Pisacane. Aveva chiesto di intervenire Giuseppe Calvi della Gazzetta dello Sport. Prego Giuseppe. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Bene arrivato innanzitutto. Grazie, grazie. Sino a poco tempo fa ero io a vedere il tuo Cagliari venendoli da inviato. Ora sei tu nella nostra lecce e quindi parliamo un po' della Serie B che tu ritrovi dopo cinque anni e quella volta fu un'esperienza felicissima perché hai vinto il tuo campionato con il Cagliari. Che Serie B pensi di trovare forse con una lotta più agguerrita perché c'è un gruppo ampio di squadre in lotta per la promozione e soprattutto le tue condizioni dovrebbero essere al meglio appurato che hai giocato la penultima partita di campionato e anche quella di Coppa Italia. Benvenuto ancora. Buongiorno ripeto innanzitutto sono contentissimo di essere arrivato qui a Lecce. Arrivo in una società di prestigio ambiziosa. Ringrazio il direttore Corvino che mi ha scelto per poter contribuire per portare Lecce dove merita. Il campionato di Serie B è un campionato tosto. Io penso che il sottoscritto viene qua con tantissima umiltà e non pensando a quello che ha fatto fino a ieri anche perché mi fare del male. Sono uno che si è guadagnato tutto professionalmente parlando e spero anche qua di guadagnarmi la stima e l'affetto della gente. Grazie. Giuseppe non ti sentiamo perché il microfono era disattivato. Ovviamente già pronto all'uso per la prima battaglia con l'Empoli, no? Viste le tue condizioni riduce da presenze immediate recentissime nel campionato in Coppa Italia. Sì, è normale che sto bene, sono a disposizione del mister e poi qualsiasi scelta farà il mister per me andrà benissimo anche perché come ho detto prima arrivo in un gruppo forte, in un gruppo dove già sta facendo qualcosa di importante e ci auguriamo che possa fare ancora meglio. Grazie. Grazie Giuseppe. Interviene adesso Elio Donno del Corriere dello Sport. Prego Elio. Buongiorno Fabio, anzi Fabio Doc, come ti chiamavano a Cagliari. Due domande in una. La prima è questa, è raro che quando un giocatore lascia una squadra ci si sbilanci in effusioni da parte della società, si fa il tradizionale saluto. Abbiamo detto che Cagliari ha dedicato addirittura una lettera strappalacrime. Qual è il segreto di questo rapporto così bello? La seconda è questa, se ritrovi qualche amico, qualche calciatore, qualche compagno di squadra. Grazie. Buongiorno. Io penso che in tutti i posti che sono andato ho cercato sempre di lasciare un ottimo ricordo, soprattutto dal punto di vista umano, anche perché i calciatori, i presidenti, i direttori passano. Dico sempre che nel calcio rimangono due cose, l'uomo è la maglia e io ho sempre cercato di onorare da questo punto di vista. Spero di fare altrettanto qua e niente. Ho giocato già con Antaxidis, con Gabriel, con Meccariello alla Ternana, comunque i ragazzi li conosco tutti perché oltre che giocare a calcio sono un appassionato e mi piace sapere, mi piace informarmi. I ragazzi li conosco tutti, alcuni li ho incontrati da avversario fino all'anno scorso, per cui sono contento di aver fatto questa scelta, ma soprattutto sono convinto di essere arrivato, come dicevo prima, in un gruppo forte e questo ha facilitato anche la scelta. Quindi ti senti ormai già a casa duale? L'impatto con la squadra è stato facilitato da tutte queste conoscenze? A casa mia no, perché spero di farla diventare, anche perché sarebbe una sviolinata e non mi piace fare sviolinate. Però i ragazzi mi hanno messo nelle condizioni di ambientarmi subito, ho trovato uno staff anche medico, oltre che tecnico, che mi ha messo a proprio agio. Qualche amico già mi ha fatto conoscere persone dove posso contare, anche fuori dal campo. Sono arrivato in un posto dove ci sono le condizioni di poter vivere anche bene, questo mi fa molto piacere. Grazie. Aveva chiesto di intervenire Pierpaolo Verri della Gazzetta del Mezzogiorno e Pianeta Lecce. Prego Pierpaolo. Buongiorno, io le volevo chiedere sulla base della sua esperienza se la prima impressione che ti ha fatto questo Lecce, le diceva che è un gruppo forte, e l'impressione di un gruppo che può anche diventare vincente e si ha tutte le carte in regola per rinforzi in questo campionato nella seconda parte di stagione. Buongiorno Pierpaolo. Come dicevo prima, arrivo in un gruppo dove alcuni giocatori hanno fatto la serie all'anno scorso, alcuni hanno fatto questa categoria già in passato e ci sono tanti giovani che anche se ho fatto due allenamenti ho potuto intuire che hanno delle qualità. Ci auguriamo tutti insieme di portare il Lecce dove merita. Poi se saremo un gruppo vincente, questo lo potremmo dire al 7 maggio. Grazie. Vi ha chiesto di intervenire Giuseppe Andriani di Antenna Sud. Prego. Sì, ciao Fabio. La mia domanda invece riguarda la difesa. Questa è una difesa che fin qui è stato un po' il punto debole di questa squadra. Sento un po' la responsabilità per alcuni aspetti di essere il grande colpo atteso anche da un punto di vista tattico oltre che per esperienza e quant'altro. Buongiorno Giuseppe. Io penso che, ovvio ho seguito il Lecce e non penso che il reparto difensivo abbia mostrato delle fragilità. Dicevo io non penso che il reparto difensivo abbia mostrato delle fragilità, soprattutto di livello individuale perché ci sono dei compagni che comunque penso che siano all'altezza della situazione. Io arrivo perché, come diceva il direttore prima, si è voluto completare il reparto, si è voluto mettere un tassello in più e arrivo qua per portare il mio mattoncino alla causa, sperando di costruire al 7 maggio un edificio che porta il Lecce dove merita. Grazie. Pasquale Marzotta di Mondoradio aveva chiesto la parola. Prego. Buongiorno, ben arrivato. Rivolgo subito una domanda. Dopo aver scritto il libro della favola di Pisacane, una storia realizzata sul campo e nella vita. L'uomo calciatore Fabio Pisacane, ora in questo pleccio, cosa potrà scrivere? Cosa? Cosa potrà scrivere? Cosa vorrà scrivere di nuovo? Ma innanzitutto spero di poter scrivere ancora delle pagine importanti, anche perché mi sento bene, come dicevo prima, arrivo in una società gloriosa e insieme alla società speriamo di scrivere delle pagine importanti. Questo poi è normale che passerà tutto dal campo. Diciamo che ci sono i presupposti, sia da parte mia che da parte della società, di poterlo fare. Allora, ha chiesto la parola Alessio Amato di Calcio Lecce. Prego Alessio. Ciao Fabio, volevo chiederti se è stato sempre un calciatore apprezzato dai propri tifosi per l'impegno e la lotta messa sul campo. Ecco, questa situazione, anche se ormai è passato quasi un anno, senza il tifo sugli spalti, sai benissimo il calore che una piazza di Lecce può trasmettere. I giocatori come te sentono particolarmente la differenza rispetto magari ad altri che hanno altre caratteristiche? Diciamo che è una bellissima domanda questa, anche perché io penso di essere uno che con i tifosi si esalta ancora di più. Però sono convinto che, e come mi hanno spiegato anche i compagni, che questo anche se non potrà succedere sul campo, la gente ci fa comunque sentire il calore anche da fuori. L'ho potuto avvertire anche in questi giorni e spero di ripagarli almeno in questo momento che loro non possano essere presenti, augurandoci che presto possano ritornare allo stadio, ma soprattutto che presto io possa avere il piacere di lottare con loro al proprio fianco. Voi ha chiesto di intervenire Antonio Greco di Salento Live, prego Antonio. Antonio devi disattivare il microfono. Pronto? Sì. Sì, prego. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ovviamente a te, chi è del tuo Fabio, ben trovato a Lecce. Già mi fa piacere sentire un calciatore che mette al primo posto alcuni dei loro, quindi già da questo punto di vista, te lo dico anche personalmente, sono molto contento. la tua utilità ovviamente penso che ti farà fare un bel po' di partite in questa squadra. La domanda è ovviamente d'Ombido, ti senti più portato a giocare al centro o comunque come esterno a basso o come stile a destra? Perché qualche lacuna ovviamente, al grado del il tuo apprezzamento per la retroguardia giaverosa, qualche lacuna oggettivamente c'è stata in questa squadra, quindi ovviamente anche i tifosi si aspettano molto da te e immagino che tu abbia un minimo di preferenze anche se ovviamente sarai a disposizione del mister. Vabbè, io sono un giocatore comunque duttile, ho fatto tutti i ruoli del reparto difensivo, io è normale che nasco come dimmarcatore centrale, però non fa differenza, l'importante è essere utili alla causa e portare, come ho detto prima, il proprio contributo al servizio della squadra e dell'allenatore. C'è l'ultima domanda di Gabriele De Giorgi di Lecce Prima, prego. Sì, buongiorno a Fabio Pisacani intanto, sei arrivato da Cagliari, hai trovato un cagliaritano doc con la fascia al braccio, con la fascia di cagliaritano, un calciatore che all'inizio del campionato non aveva nemmeno fatto tanto mistero di voler provare l'avventura con il Cagliari, è stato più contento lui di vederti o più rassicurato tu di trovare un cagliaritano? Perché immagino che l'empatia fra due giocatori esperti dica molto anche su quello che può essere il rendimento di una squadra che lotta per un obiettivo importante. Si è sentita un po' male la domanda però provo a riassumere il senso Gabriele, diceva il collega De Giorgi che sei arrivato qui da Cagliari e hai trovato un cagliaritano doc come mancoso con la fascia da capitano al braccio, giusto Gabriele? Sì sì, ora mi sentite meglio? Dicevo quanto è importante l'empatia fra due giocatori esperti che possono avere anche ricordi ed esperienze magari in comune e che ti è sembrato più in generale di mancoso perché è un capitano atipico, non si sente quasi mai alzare la voce, è un ragazzo pacato però in questi cinque anni ha dato tantissimo a legge. Innanzitutto sono contento di aver trovato sia lui che Vigorito perché sono due ragazzi sardi e io a quella terra sono legato, il capitano è normale che ognuno è leader al suo modo, a volte non c'è bisogno di alzare la voce, ho potuto sicuramente intravedere che di fronte ho un ottimo ragazzo e questa è la cosa più importante, poi come giocatore di certo non lo scopro io. Veva chiesto di intervenire Elio Donno del Corriero Sport, ultimissima domanda, prego Elio. Ho scelto rapidissimo che serve a tutti, il numero di maglia che hai scelto Fabio? Ho scelto il numero 4 in onore di San Francesco. Grazie. Grazie a tutti per essere intervenuti, ringraziamo il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino e ringraziamo anche Fabio Pisacane. Grazie a tutti voi.